Qualche quiz vuoi fare? Cosa ti può interessare? Ci sono veramente tanti di quiz Allora fatemene vedere qualcuno Guarda così è molto difficile Tu dindimi un argomento che ti piace, dove ti senti brava E' veramente di tutto E' niente E' niente E' niente L'inutilità fatta penso poi Vai facciamo quiz di cultura generale Non sono forte però divertente Quiz di cultura E allora andiamo subito su mio fratello Il più grande creatore di quiz di cultura generale di sempre Tocca a me? Sì Cosa dici? Dì grazie io dici No giusto l'ho detto io No hai detto Venezia Brutto cloud E in che sport ci leva Mike Tyson La box Ah io ho le domande facili Infatti si se gode Potrebbe essere il giro facile questo Chi fra questi non è un famoso scrittore? Giotto Brava Bravi tutti A sapere il nome del quinto genito di Napoleone Piange subito ragazzi E invece la domanda per il maestro è molto semplice Completa il famoso slogan Li fa e nessuno li distrugge Canon Io non l'ho mai sentito Quale fra queste non è un roditore? No tragole fra questi Tragole fra queste non è un roditore? Volpi Stai sicuro? Si illuminava Vabbè Sono i colpi Sono i colpi Non sono i roditori Bra bra Quale tra queste città è in Liguria? Io vado con Genova Ma non sono sicuro Di Genova Grosseto Quale fra questi ingredienti non va nella torta margherita? Cioccolato Ah era Non era Eh sì Ah prendessi il cancro Cioccolato Bravissima Martina Dove si trova Vimercate? Lombardì Lombardì Manca una lettera Lombardì Cioè ci abitava Mischilla In che anno è nata la Pagani? Ah è Ludovica? No non è Ludovica Pagani Ah no Eeeh C'è 50 56 62 Ma come 92? Ma era Ludovica? Sì infatti Ragazzi è la macchina È la macchina Sara Dai No ragazzi Scusate Vabbè A chi sta? A me? E quale fra queste squadre non ha la maglia bianconera? Eeeh Livorno Scusate Se mi permetto un piccolo stop Perché qui è Quale fra queste città è in Liguria? Non è No sì 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 E infatti ha sbagliato a scrivere Non tu a leggere ho detto Ok ok Quindi è giusta Genova Perché Genova è in Liguria Genova è in Liguria Sì ovviamente No vira Prova contraria Ok ok Conta punto eh Tieni punto bene Ibo Chi nacque prima fra questi infamosi condottieri E che ne sa Temistocle Parlare più napoletano nelle mie stream E la prende E la prende così Martina dell'Anno Non dimenticare di si iscriverti Unisciti a noi Come si dice cucire in inglese? Tu lo sai che mica lo so io Dirò Sì al No è Sì al Borrow Come si trova la mole antonelliana? Beh Direi proprio al Torino La B Con la mia supercar A Napoli Sì sì Te scambio dei nomi No Tanto devi permettere Quell'azienda produce biscotti pan di stelle? Mulino bianco Lussi camigli Certamente Passiamo dai marchi olandesi a pan di stelle Ci sta Ci sta Canta la canzone ricordati di me Fatti del mondo di fatti Claudio Baglioni Bravo il maestro E si leva dai coglioni Così Antonello Venditti Ignorante di merda Chi è il regista del film Pulp Fiction? Quentin Tarantino ovviamente Io le vostre non le so mai comunque Sì 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 ma questo è il giro di Martina È palese Te sei beccato È il giro di Manuxo Che se becca sempre le domande Qual è il risultato di 81 per te 85? Teoricamente dovrebbe essere 9, 2 68 B 25 Ok Leo grazie 2003 No no ho sbagliato ho detto B In quale di questi film non è presente Sofia Loren Non la sai? Chiudi gli occhi e spara Campo dei fiori Signori e signori Martina Dell'Anna La prende di nuovo Che cazzo fa? Quale squadra inglese ha vinto più Champions League bro? Eeeh Ognuna No no Sei proprio un ignorante di merda È coglione No è che mi piace la figa Scusami Ah non è Non fai parte del Canada A occhio e croce direi Boston Sì Basta Ma male Sta a me? Sì Dov'è nata Elodie? Eh Facile Ma che cazzo ne so Porca madonna Sarà di Napoli Ne sa di Napoli Roma Eh non lo doveva dire Roma contalo buono È il punto Grazie Andre gatto i 13 Quale è fra questi filmi scori in Europa? Danubio Mississippi Drive Ma cos'è Mississippi Drive? Fatto un errore ho fatto Mississippi Drive Mississippi Drive Eh Grazie per la risposta A quanto A quanto metri dal mare Si trova Cortina D'Ampere? Oh però regà Eh dai però Eh ma non lo so Niente Marzo stai andando una merda Stai andando Allora Secondo me non l'ha fondato Zuckerberg Dai è suo Zuckerberg A coglione A coglione Non sai un cazzo Non sai Quali sono i colori della nazionale brasiliana? Verde oro Verde oro Sai che ne ho sbagliata una Non sto Sarebbe proprio una bella domanda Del cazzo a Martino Gli serve mo Dai Sì sì Qual è la distanza Di chilometri fra Nebo e Milano? La prende La prende 774 La prende La prende La prende La prende Bravi tutti Qual è la moneta corrente in Sudafrica? Vabbè Eh Il dinaro ragazzi Il dinaro Dai Ma non posso prendere una canzone Ma cerco È il rent Dai ragazzi State sul cazzo Il dinaro Non credessi Il cosa si occupa La occupa La filateria Beh Ovviamente Filas Francobolli Hai fatto greco Zio porco Per sei anni Non l'ho mai fatto Dove ha origine La marena Mandatevi un'affanculo Pezzi De merda Mi fate schifo Mi fate In America Arcadio Che cazzo di ridi Scemo Quando ha vinto Nadal L'ultimo Dei suoi Roland Garros 2018 Oh Grazie a Dio Ne ha sbagliato Una 2021 Dove si trova Il Kyrgyzstan Grazie a Dio E in Asia Ce l'abbiamo fatta A darmi una roba Normale Una bella Domanda Da gay Una grande domanda Da gay Ci sta Ci sta Cosa commercio Alla intel Cazzo Biciclette No elettronica Mi sa Elettronica Ma secondo te Normale Cioè può essere mai normale No no Non ho parole Non ho parole Dove è stato girato Ah il film I soliti ignoti Ho capito Ho capito Dai Giammazzo Napoli Napoli Quale fra queste marche Non è nota per produrre Strumenti musicali La figa Chiamami boss Boss Fida Fidati Quale città Ospita la sede Del Nobel È certo È certo Ragazzi Frankfurt Dai C'hai i server De fortnite Totocolma Quale fra questi Non è una regione Della Spagna Fleiria Sembra una roba portoghese Ma dove l'hai uscita A morire Porco Dio Quale fra queste isole Non è campana Oddio Oddio Che palle Oddio Non lo so Non lo so So ignorante Come la merda Una è tua È facilissimo Il Lipari Bravo Che lingue si parla Nel Bahrain Bahrain In arabo Non lo so Para L'ha detta L'ha detta L'ha presa Qual è la forma Del segnale stradale Che indica una piazzola Di sosta Ed è Rotonda bro È sempre rotonda Tanto È sempre rotonda Tanto Bravissimo Francesco Marzano È rettangolare E diciamo Non l'ho pensata neanche È sempre rotonda Veramente Riprende i quiz Che facciamo Patente In stream Che Francesco decide Puntualmente di farci bocciare Ah già ma Prendo la patente Per investirti Ok Ok Ti aiuto io A prenderla La patente Nel caso Prima mattina Secondi Giammo e Manu Ultimo Il maestro Pronto